Nella legge di bilancio 2022 approvata dal Consiglio dei Ministri sono stati previsti altri 6 miliardi per finanziare la ricostruzione post-sisma del centro Italia, una misura che arriva al ridosso delle celebrazioni per il quinto anniversario del terremoto che ha coinvolto Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo nel 2016. Finora erano stati stanziati 6 miliardi di euro per gli interventi sugli edifici danneggiati dal sisma, ma il commissario Legnini nell'ultimo mese ha ribadito più volte che ne servono almeno il triplo, dai 18 ai 20 miliardi, ed allora ecco che il governo è intervenuto parzialmente a sostenere le richieste. Una scelta quella del governo che per il sindaco di Teramo Gianguido d'Alberto nonché presidente Anci Abruzzo rappresenta un importante segnale da parte del governo. Una buona notizia che conferma l'andamento dell'ultimo periodo, il cambio di passo e di prospettiva del governo ed è un po' quello che avevamo chiesto, cioè che il tema della ricostruzione e del cratere sismico del centro Italia restasse anche in forma potenziata una priorità nell'agenda del governo. Quindi risorse importanti che derivano anche dalla richiesta che il commissario Legnini insieme ai sindaci ha formulato, relativa appunto al potenziamento delle risorse per la ricostruzione privata, in un momento nel quale è stato effettuato il censimento e soprattutto in un momento nel quale abbiamo tante risorse già spese per la ricostruzione privata con la spinta che è stata data dall'ordinanza 100 e da tutti gli altri strumenti previsti, pensiamo dal super sisma bonus, nell'ultimo anno. Resta il tema della proroga, comunque del prolungamento speciale, specifico del super sisma bonus per l'area del cratere sul quale continueremo ovviamente ad insistere perché venga inserito nella legge di bilancio. È chiaro che man mano che vengono presentate le domande e soprattutto si potenzia l'accelerazione relativa ai decreti che sono stati emanati in numero importante anche nella nostra città e nell'ambito del cratere abruzzese, è ovviamente necessario rimpinguare le casse della ricostruzione, però il dato positivo è legato non solo al fatto che siano state stanziate le risorse ma che ci sia l'esigenza di stanziare queste risorse perché vuol dire che comunque la ricostruzione è partita ma lo vediamo nelle nostre città con i cantieri di ricostruzione privata che sono sempre più numerosi e quindi c'è bisogno di iniettare ulteriore liquidità all'interno delle casse della ricostruzione.